116 milioni da vedere prima dei 16 anni, intanto come nasce questa idea? Guarda, nasce da una esigenza, come dovrebbe sempre nascere l'idea, cioè da una necessità e non da un capriccio. La necessità era quella di creare qualcosa che forse mancava un po' in Italia, cioè una forza di mappa per muoversi in quel territorio vasto, talvolta difficile da percorrere, che è il cinema per ragazzi. Una parola che contiene tante cose, tante possibili opere. Quindi una mappa che nasce in un momento particolare, perché con Mondadori ci siamo detti perché non mettere per iscritto ciò che stavo già facendo da un po' di tempo, cioè quello di consigliare film a chi me lo chiedeva, insegnanti, genitori, operatori culturali, che in special modo durante la pandemia, durante il lockdown, hanno avuto la difficoltà di intrattenere e di scegliere i film giusti per i ragazzi costretti a casa. E quindi abbiamo messo per iscritto, abbiamo dato una forma che io trovo molto intrigante, originale, un'idea, cioè quella di trovare dei film giusti per diverse fasce d'età e per diversi generi o categorie. L'altro, sei stato direttore creativo del Gifoni Film Festival da tanti anni, quindi si vede quanto il cinema possa essere usato per spiegare ai ragazzi diversi temi che magari anche gli adulti faticano a spiegare. Hai ragione, il cinema è una… anche se non dovrebbe mai essere considerato un semplice strumento per parlare d'altro, il cinema ha una dignità come opera d'arte, non andrebbe trattata come tale in generale, però detto questo, come tutte le opere d'arte, può essere anche il veicolo per raccontare altro, per entrare in quelle zone d'ombra che rimangono altrimenti all'oscuro. E quindi un film può aiutarti a guardarti meglio dentro, ti può addirittura aiutare come terapia in molti casi. In altri casi è un modo per raccontare ai più giovani il mondo intorno a loro. Quindi scegliere il film giusto e anche scegliere un giusto punto di vista sul mondo. Quindi, quali sono stati i criteri per stilare questa lista? Cosa rende un film un portavoltale da vedere prima di 16 anni? Guarda, è stato molto complicato, molti film probabilmente avrebbero meritato di entrare in questa categoria, è stato doloroso a volte scegliere. Innanzitutto ho cercato di privilegiare quei film che ho amato io personalmente, quando ero un ragazzo, ma anche adesso, perché poi è vero che sono i film da vedere entro i 16 anni, ma sono i film da vedere tutta la vita, molti di questi casi, sono film talmente belli. Se uno pensa a un film come Moonrise Kingdom di Wes Anderson, se pensi ai 400 colpi di Truffaut, se pensi a Mommy di Xavier Dolan, sono film per tutti, non sono film solo per giovani e per ragazzi. Ma anche un film più per bambini, come La mia vita da zucchina, è un film perfetto per raccontare a noi genitori che cosa significa essere genitore, che cosa significa avere dei figli. Quindi i criteri sono stati due in particolare, quindi come dicevo, uno è il film che io trovo bello, il film che andrebbe avviso perché sono delle belle opere d'arte. Secondo, che i protagonisti delle storie fossero ragazzi, perché questa è una scelta difficile, perché un film come Ghostbusters, per esempio, è un film perfetto per ragazzi, però dentro non ci sono i ragazzi protagonisti. Cioè il punto di vista sul mondo è spesso da adulti, anche se è un film un po' di trattenimento, simpatico, e invece un film per ragazzi, che ha dentro la storia un ragazzo che porta avanti le sue vicende, in qualche modo crea una maggiore immedesimazione con quello che lo vedrà, c'è un ragazzo, un bambino, una bambina, un giocatore. Quindi questo è stato un criterio che mi ha spinto. E poi le categorie, dieci categorie, dall'amore alla malattia, alla morte, alla guerra, i maestri, i mondi fantastici, sono un altro elemento che mi ha aiutato, cioè delle scatole in cui posizionare, non in maniera rigida, questi film. Ecco, il libro è rivolto a diverse facce d'età. Com'era invece il tuo rapporto col cinema da ragazzo, da adolescente? Questa è una bella domanda. Il cinema mi ha salvato, proprio letteralmente. Ho vissuto, dopo le scuole medie fondamentalmente, un tipo di vita in cui non mi sentivo a mio agio, come posso dire, no? E quindi ho cercato nel cinema quello che la vita non mi dava. E quindi il cinema è diventato davvero la finestra sul mondo. Non viaggiavo, non avevo grandi rapporti con le altre persone, proprio perché non mi sentivo a mio agio. Era una specie di ikikomori della preistoria, diciamo così. Quindi mi chiudevo nella mia stanzetta, ma letteralmente mi chiudevo e vedevo film a getto continuo. Quindi il mio rapporto è un rapporto di amore e di gratitudine per chi mi ha raccontato quelle storie. Un film come Gunis o come Stand By Me, film del genere, mi hanno aiutato ad affrontare meglio la mia difficile infanzia. E quando sono cresciuto ho portato con me però questo bagaglio di amore che avevo accumulato in quei tempi lì. Ed è continuata, è maturata la storia d'amore, ecco diciamo così. E non si è mai interrotta. Ed non credo che avverrà mai il giorno in cui tradirò questo mio primo grande amore che c'è. Allora, una scelta difficile, ma tra questi 116 che hai selezionato, quali sono i tuoi preferiti? Allora, già ho detto i Goonies e Stand By Me, questi per me sono due classici inamovibili, davvero. Sono film che sono dei capisaldi, dei classici per me, ma non solo per me logicamente. Ma tra questi c'è Moonrise Kingdom sicuramente, di Wes Anderson. È un film straordinario che racconta l'amore in una maniera nuvisa. Quindi mettere anche Wes Anderson è proprio tra i miei super preferiti. E poi le voglio scegliere uno che è poco conosciuto, che è poco visto e che invece andrebbe conosciuto un po' meglio. Perché è Selvaggi in fuga, di Taiki Waititi, che è lo stesso regista di Jusho Rabbit. È un film che pochissimi conoscono, ma Selvaggi in fuga è un film straordinario, dove c'è il puro intrattenimento. Dove tutto è super divertente, veloce, è monumentato. Dove però esci fuori dal film e dici, ah, ho visto un grande film. Tu sei spesso a contatto con i ragazzi, con le scuole. Spesso parliamo di quanto sia importante far vedere ai ragazzi il cinema, il film per appunturarsi. A questo mio fianco mi rifaccio all'appello che ha fatto Francesco Ilfoglino e Lavi Donatello. Quanto sia importante anche per i ragazzi fare cinema, creare loro dei film. Flavino, che è un genio, come attore, ma anche come essere umano, ha grandissima intelligenza, ha detto quello che pochi minuti fa ho cercato di dire nella mia presentazione del libro qui a Carboglia. E cioè che più che far vedere i film, che è comunque importante, più che semplicemente somministrare delle belle opere, è importante che i ragazzi facciano film, perché non c'è modo migliore per conoscere il cinema che facendolo. Vale molto di più una scena in cui due ragazzi sperimentano davanti a una telecamera un bacio o una relazione d'amore, una relazione d'amicizia, piuttosto che cento film che ti raccontano attraverso i baci che cosa significa amarsi a 13, 14, 15 anni. Fare cinema, e l'ho visto tutto come esperienza personale, perché tantissimi film che abbiamo realizzato per Geffoli nelle scuole, ho visto come i ragazzi cambiavano in tre giorni, quattro giorni, cinque giorni di riprese, cambiava totalmente il loro rapporto con il cinema, perché facendolo capivano anche l'arte che c'è dietro, l'artigianato che c'è dietro, il sacrificio che c'è dietro, perché il cinema non è un sogno che improvvisamente appare sullo schermo, è un sogno che tu allestisci, costruisci e che fatichi a tenere su. Spesso quando si parla dei grandi cut, dei grandi capolavori del cinema nel passato, soprattutto se sono in via di venero, spesso con i ragazzi c'è una sorta di distacco, perché li sentono allontani da noi, che consiglio daresti ai ragazzi per avvicinarsi a questo film? Di avvicinarsi lentamente, di non cominciare proprio da quei film lì che possono spaventare, che come linguaggio rappresentano una dimensione a cui non sono abituati, quindi possono spaventare. Come dicono sempre i classici, non sono un punto di inizio, ma un punto di arrivo. E poi ci vuole qualcuno che li accompagni nella visione, che racconta perché quei film erano in bianconiere e in che modo il bianconiere può essere più espressivo e addirittura più vivace di tanti film a colori. Un film come, per dirne uno, Germania Hanno Zero o i 400 colpi, sono film che hanno dentro talmente tanta vita e tanta attualità che tanti film che sono usciti il mese scorso non hanno fondamentalmente. Però lo devi accompagnare, ragazzi, nella visione di questi film, altrimenti rischia di spaventarsi. E se si spaventa rischia di non avvicinarsi mai più a queste grandi opere.